Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi parliamo e facciamo chiarezza riguardo a un topic abbastanza scottante che ha fatto il giro dell'internet nelle ultime ore. Allora, Nvidia contro Hardware Unboxed. Cosa è successo? Hardware Unboxed è un canale YouTube, una redazione, comunque un portale di informazione tecnologica al quale io molte volte ho fatto riferimento per quanto riguarda i dati che raccolgo per i miei video e per informazioni personali e grazie ai video di Hardware Unboxed, i video di Steve, che io ho scelto di non acquistare più la MSI RTX 3080 Gaming X3, o ma di prendere una scheda grafica di Asus, ecco. Diciamo che per quanto la sua metodologia di testing sia molto molto prolissa, sia molto impuntata verso una marea di dati, è decisamente completa, esaustiva e corretta specialmente. Il fulcro della questione è che la redazione comunque di Hardware Unboxed qualche giorno fa ha ricevuto un'email ufficiale da parte di Nvidia in cui si diceva cari Hardware Unboxed, noi non vi mandiamo più le Founders Edition perché non ci è piaciuto come fate le recensioni. Fino a qua tutto ok, va benissimo, Nvidia fa le schede grafiche, Nvidia decide a quali persone mandarle, Nvidia è benissimo padrone, o padronessa, no si dice padrone, è padrone delle proprie scelte, ok, delle proprie scelte di marketing. Le motivazioni però di questa scelta sono effettivamente discutibili, opinabili e secondo me abbastanza idiote e oggettivamente stupide. Nvidia accusa Hardware Unboxed di non aver valorizzato abbastanza il ray tracing nelle proprie recensioni, cosa non vera perché Steve o comunque tutta la redazione di Hardware Unboxed in ogni recensione di scheda grafica di videogioco che supporta il ray tracing, perché poi vorrei un attimo parlarne, c'è praticamente il 98% dei giochi che non supporta il ray tracing, ma va bene, Nvidia ci vuole far credere che il ray tracing sia parte integrante e molto importante della nostra vita, ad ogni modo in ogni recensione viene mostrato il rendimento di una determinata scheda grafica con e senza ray tracing. Nvidia in pratica dice poi che dai commenti della community di Hardware Unboxed sotto i video YouTube, sotto comunque i video delle... sotto le live, eccetera eccetera, dice che stanno mettendo in cattiva luce Nvidia. Va benissimo, è una politica di azienda che io posso capire sicuramente, cioè io ti mando un prodotto per farci una recensione, ti dico guarda se puoi gentilmente dire questa cosa mi fa piacere, la nostra collaborazione continua. Il problema è che a questo punto viene fuori una cosa chiamata onestà intellettuale, nel senso, se io ho un mouse e dico questo mouse è nero, l'azienda non può venirmi a dire dopo, no hai sbagliato, devi dire che questo mouse in realtà è verde, perché questo mouse è nero. Adesso, se il ray tracing di Nvidia, che è il miglior ray tracing che c'è al momento sul mercato, ok? L'RTX è il miglior tipo di ray tracing che c'è sul mercato. Se questo ray tracing dà un colpo, una diminuzione alle performance in game, tale da non rendere godibile l'esperienza di gioco, è normale che un recensore che c'ha i controcore sotto deve dire, sì ok raga Nvidia mi ha mandato la scheda grafica per fare la recensione, ma se da 120 frame al secondo passo a 59,5 frame al secondo, significa che è un calo del 50% delle performance. E cosa sto cercando di dire? Sto cercando di dire che Nvidia si sta lamentando senza un vero e proprio motivo, secondo me, o meglio, Nvidia sa di avere dei punti, dei nervi scoperti, diciamo così, dei punti fallaci nella propria line-up di schede grafiche e sta cercando di fare piazza pulita delle persone che potrebbero parlarne male e che potrebbero avere una risonanza mediatica attorno ad esse tale da andare ad inficiare le vendite. Già, infatti, quest'anno non è che è già Nvidia che si sta tirando la zappa sui piedi molteplici volte con schede grafiche vendute ai miners e scorte non adeguate alla vendita e alla domanda di LRTX 3000, ma vabbè, questi sono dettagli, andiamo praticamente a fare il cazzo ad una tardura unboxed. Raga, alla fine della fiera, Nvidia, AMD, Intel, qualsiasi azienda vi possa venire in mente, deve, a fine anno, portare un fatturato a casa. Se, ad esempio, Nvidia manda una scheda grafica ad un grandissimo recensore, che possa essere Linus Tech Tips o, che ne so, Jace2Sense o Pulse Hardware o Bitwit o Hardware Unboxed, appunto, e queste persone dicono, guarda della scheda, tutto sommato va bene, però in una determinata occasione, in una determinata istanza, fa cagare, Nvidia dice, porca miseria, abbiamo perso praticamente quante persone, quanti iscritti c'ha questo, 700.000 iscritti, abbiamo perso potenzialmente almeno 400.000 vendite. Va benissimo la mentalità imprenditoriale, ma quando i dati sono oggettivi, cioè nel senso, il ray tracing è buono, sicuramente, è la tecnologia della vita, del futuro, può darsi, e comunque ne vale la pena utilizzarlo in game, quello no, in questo caso, più che cominciare a fare piazza volita di chi ha dato semplicemente un parere oggettivo riguardo alle performance di una tecnologia ancora in sviluppo, raga, perché il ray tracing non è ancora completo. Questa qui, praticamente, non so, i più vecchi sicuramente si ricorderanno quando l'anti-aliasing venne lanciato, qualche anno fa. All'inizio faceva cagarissimo, in pratica non si poteva utilizzare su nessuna scheda grafica, perché era un filtro estremamente pesante. Al giorno d'oggi l'anti-aliasing, ok, c'è, non c'è, diciamo, si può comunque sopperire a quella mancanza. Il ray tracing è ancora non in una fase embrionale, è appena nato, ok, quindi non è ancora maturo per poter essere utilizzato oggettivamente, mentre le performance del gioco non vanno ad essere inficiate. Con questo, cosa voglio dire, raga, è inutile continuare a girarci intorno. Il ray tracing è bello? Sì. È la tecnologia del futuro? Sì. Ne vale la pena? No. Tutte le persone che mi dicono che acquisteranno una scheda Nvidia per il ray tracing maggiorato, ok, ci può stare, ma raga, io, come ho già detto, io faccio content creation, faccio streaming. Le schede Nvidia mi servono per l'inbank, cioè il codec di streaming, per l'ottimizzazione CUDA e per la tecnologia di LSS, che quella è una cosa fantastica. Queste qui sono le tre cose per le quali dovreste comprare una scheda Nvidia e non una scheda AMD. Se volete comprare una scheda Nvidia solo per il ray tracing, sappiate che rimarrete delusi. Guardate un pochettino la 3090 come si comporta in molti giochi, guardate già la 3080 come si comporta, ma guardate la 2080 Ti, raga, che fino a tre mesi fa costava 1300 euro. E in ray tracing fa schifo, perché è la prima iterazione del ray tracing. Nvidia è stata bravissima nel volerci inculcare nella testa il fatto che il ray tracing fosse necessario e fosse la vita, fosse praticamente la tecnologia di cui tutti abbiamo bisogno al giorno d'oggi. Non è ancora il momento. Ed è stupido prendersela con qualcuno che sta facendo semplicemente il suo lavoro in maniera oggettiva ed in maniera molto, molto, molto professionale. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi ringrazio per aver guardato il video. Ricordate di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G. Non l'ho detto all'inizio, ma in descrizione ci sono tutti i link di riferimento che possiate immaginare. E ci vediamo a un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao! 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 Ciao!